Ci sono ancora i segni sull'asfalto della tragedia della strada che ha portato via una giovane vita. Ci troviamo lungo la provinciale 327, a poche centinaia di metri dall'abitato di Foiano della Chiana. Qui ha perso la vita una ragazza di 24 anni. Era da poco passata la mezzanotte quando la giovane Andrea Bianca Adam, di origini romene, viene travolta da un auto e muore sul colpo. Ancora residente nel suo paese di origine, la giovane pare stesse lavorando in questo locale notturno che si trova a pochi metri dal luogo della tragedia. Forse stava attraversando la strada per andare a prendere le sigarette in un bartabacchi che si trova dall'altro lato. Il conducente dell'auto si è subito fermato ed ha allertato ai soccorsi. Oltre ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso della giovane, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cortona e quelli della stazione di Foiano della Chiana che hanno effettuato i rilievi. Questa strada è indubbiamente molto trafficata sia di giorno che di notte. Collega molti comuni della Val di Chiana. In questo tratto, dove Bianca ha perso la vita, la sede stradale è anche molto stretta. La salma è stata trasportata all'obitorio del San Donato di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.